Zuppa di lenticchie e zucca di gennaio Con l'arrivo delle fredde giornate di gennaio, una cosa che non può mancare è una gustosa zuppa di lenticchie e zucca. Questa ricetta è facile e veloce da preparare, adatta anche a chi è alle prime armi in cucina. Gli ingredienti da utilizzare sono 200 g di lenticchie 1 zucca 1 cipolla Q.B di prezzemolo Q.B di olio extravergine di oliva Q.B di sale Ecco i passaggi da seguire per preparare al meglio questa zuppa. Taglia a dadini la cipolla e la zucca. In una pentola capiente, riscalda l'olio extravergine di oliva e fai rosolare la cipolla. Aggiungi la zucca e fai cuocere per 10 minuti, aggiungendo un po' di acqua calda se necessario. Versa le lenticchie, aggiungi dell'acqua calda e cuoci per circa 30 minuti. A fine cottura, aggiungi il prezzemolo e un pizzico di sale. La zuppa di lenticchie e zucca è pronta per essere servita, accompagnata da una fetta di pane tostato. I Newze I Newze I Newze I Newze I Newze I Newze Grazie a tutti